Una cabina di regia regionale nata per velocizzare e migliorare la qualità della spesa sui fondi per lo sviluppo territoriale è l'Hub delle competenze in Abruzzo, un progetto che vede il coordinamento del Formez e costituisce il cuore del nuovo corso della programmazione unitaria della regione Abruzzo finalizzato ad affiancare le amministrazioni locali nella redazione dei progetti e nella comprensione dei regolamenti tecnici in modo da favorire la messa a terra dei fondi in tempi rapidi e velocizzare la chiusura di quelli ancora in corso. Si è insediata la cabina di regia della misura AB delle competenze, una misura prima in Italia finalizzata da un lato al rafforzamento della capacitazione amministrativa degli interlocutori istituzionali degli enti territoriali e dall'altro al supporto operativo concreto nelle attività degli enti locali di gestione, controllo, monitoraggio ed avanzamento della spesa un progetto fortemente voluto dalla giunta Marsilio. Si tratta di un progetto di sistema che andrà a rafforzare la capacità amministrativa di regioni e enti locali per finanziare, per aiutare, per sopportare meglio comuni, province nella qualità della spesa a valere sui fondi per la coesione territoriale. Rispetto alle strategie territoriali noi supporteremo la nascita di questo strumento previsto dai programmi comunitari nelle otto aree urbane funzionali della regione Abruzzo e nelle sette aree SNAI, quindi sette aree interne. Ora noi dovremmo fare una rilevazione dei cabisogni necessari presso gli enti territoriali che sono comuni per capire dove dobbiamo intervenire per aumentare la capacità amministrativa degli stessi ai fini del monitoraggio, della rendicontazione dei fondi e dei programmi comunitari e proprio dell'efficienza degli stessi nel lavoro che svolgono. Il Fondo di Sviluppo e Coesione ha finanziato l'avvio di questo progetto hub delle competenze con i primi 2 milioni di euro a valere sul ciclo di programmazione 14-20. Ma nei programmi comunitari sono previsti ulteriori fondi anche più cospicui che partiranno a brevissimo e che saranno la normale persecuzione del progetto che parte oggi. Ecco perché mi onoro di dire che è il primo progetto in Italia con questa finalità pratica. Obiettivo spendere subito e bene le ingenti risorse della nuova programmazione FESRE ed FSE e quelle della nuova programmazione nazionale FSC. Definito anche il cronoprogramma delle attività, con il primo obiettivo a partire dal prossimo mese di luglio il supporto in loco agli enti territoriali cui si accompagnerà la contemporanea mappatura dei fabbisogni specifici dei territori.